sul sussidiario, un tempo scrivevo sul Corriere, poi mi censuravano gli articoli, li tagliavano, a tutto c'è un limite, allora ho chiamato Ferruccio De Bortoli, gli ho offerto io da mangiare in un ristorante più decente e gli ho detto guarda se vogliamo rimanere amici non scriviamo più perché dopo 20-30 articoli che sono cambiati, niente insomma. Quindi diciamo questo paese è bravissimo per mettere dal margine non i migliori perché probabilmente anche i migliori vanno avanti ma quelli che non la pensano col pensiero comune. Il problema perché?